3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi e ragazzi oggi stiamo ritornate qui con il mio compito questo video si tratta di un video molto fisico perché ne scoliamo 6 macarons slime abbiamo il celeste il rossa il marrone il giallo e il verde e il rossa quindi tutti i colori facciamo Ammaravacici con un po' e miscoliamo per me due ore di prendere tutti dai Ammaravacici no 3 sacco, carta, forbici sacco, carta, forbici inizio io allora mettiamo il slime al centro giuriamo sulle alci si stiamo a capire bellissimo qua l'alto è qua è perché non si vede un po' o è più o meno io voglio mescolare i rossi io voglio mescolare rosso, pantate, ad anguria ma scusa come un che scoliamo? insieme con cosa vuoi mescolare? cosa vuoi mescolare? tu lo devi scegliere il giallo il giallo, vai è morbido wow, figo dai, tocca a te vai aspetta vai siamo pronti si 3 5 2 ah facciamo un bel panino non hai un bel panino no, mescolare facciamo il fuoco dai, ora tocca a me, tocca a me allora io voglio unire il rosa il pink, pink, pink e io voglio unire aspetta, aspetta uno uno uno, vabbè non vedevo l'ora ora io voglio unire guardate Giulia aspetta che bravo, le gigante li vedono, te l'hai sfumato io voglio viscolare non mi preoccupare oh voglio toccare 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 solo prima dell'abbandono ora vai oddio ragazzi è tantissimo slime c'è una sfumatura di verde è lì è lì oh dopo dobbiamo fare una bella palla no dopo dobbiamo fare una bella palla e tagliarla io voglio aggiungere il verde e aggiungo il verde e dove? eh sì vado qua il verde dammi mi piace lo duro si è bello uno due via via ma dai no però devi ricoprirli così ragazzi ragazzi ma è tantissimo è tantissimo guardate c'è una pasta molto io voglio unire il marrone ovviamente aspetta aspetta stiamo bruciando un po' di pezzetti da qua guarda c'è guardate forse vedo due e dopo fa un S dai no immaginiamo tocca addio ci ho voluto bene stendiamo stendiamo prima un po' di pezzetti ah che modo bello però è bello perchè facciamo il scolo fammi allungare aspetta non fammi allungare aspetta vado a spazzare vai uno vai calma oh oh guardate che schienatura quanti frutti sta perdendo ragazzi sto facendo una cosa che volevo fare da tanto bellissima oh dai facciamo una cosa dai ci serve un coltello aspetta ah si un coltello no ma non è questo si si non è il butter no ma non è il butter si però devo fare una cosa no così tagliamo dai dai hai una bella pallina io taglio pure io la voglio tagliare vediamo all'interno cosa esce c'è che bello raga guardate che è uscito vai 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 rifarciamolo rifarciamolo io devo guardare io faccio la pagnotta e tu dai dai vai però non mi sprechi dopo non esce niente ok vai che figo no questo va cosa qua devi tagliare qua devi tagliare qua c'è la parte migliore che rumore cantare io ciao cifurci io faccio la pagnotta io faccio la pagnotta io faccio i niente niente io faccio la pagnotta niente io faccio il raze io faccio il raze niente niente iniziale ma questo è gel Grazie. Ok ragazzi, guardate che faccio. Giusto che il nostro slime è bicolore, facciamo le scatole bicolore perché poi dopo lo dovremmo spezzare. Guarda, voglio fare una cosa. No, lo dovremmo spezzare e metterlo. Io voglio tagliarlo in tutto questo toffettino carino, guardate. Si vede, si vede, guardate quanto taglio bene. Ora devo fare una cosa io. Aspetta, aspetta, la mia opera. No, dai. E io la devi aspettare. Prendiamo un salsicciato, facciamo gli strufoli, come si chiama? Uno, dos, tre, quattro. No, io devo fare una cosa anch'io. No! Scusami. Ora faccio una cosa io. Guarda, ho fatto il bicolore e gli scatoli. No! Cantare. No, è tutto in alto. Allora. Cantare. Oh, eh, oh. Dai, ma non c'è rimuola. Figa. Shakeram. Il tuo telefono forse lo prende nell'interna. Venite a fare freestyle sulla da terra in da Sena. Oh, eh, oh. Quando mi dicono a casa. Shakeram. Oh, eh, oh. Rispondo sono già qua. Oh, eh, oh. Oh, miti bibi cara italiana. Oh, eh, oh. Sei la mia dolce meta. Sai che significa meta? Allora. 3. No. 2. 1. Go. Quindi ragazzi. Questo è il video. Io nooo. Sperate sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi. A Instagram. Marghe e Giulia. Cawai. Ci saranno delle cose. Su Facebook. Marghe e Giulia. Cawai. Ci saranno tante informazioni. Sul secondo canale. in magic TV. Muts per colour. Tanti vi calacchiocchioni a mark a Giulia. irciwietpi. Tanti vi calica di comunicazione pop. Tanti vi calciocchioni a lotsa. O Hannio in magic tv. Se volete mai tendere a né il magnitudes. Ah, è piaciuto uno comandante su E guardia, anche se non vi è piaciuto. Ciao